Le note del silenzio di ordinanza al Parco della Resistenza con il raccoglimento del presidente Mattarella di fronte alla corona d'alloro e alla lapide che ricorda il contributo in vite dato dai militari italiani nella lotta di liberazione. Si è chiusa con una seconda cerimonia dopo quella a Porta San Paolo la mattinata di commemorazioni e di ricordo dell'armistizio dell'8 settembre. Alle 10 l'arrivo del corteo presidenziale a Porta San Paolo dove oltre alla sindaca Virginia Raggi c'era anche il ministro della difesa Lorenzo Guerini oltre alle più alte cariche delle forze armate. Presenti naturalmente i gonfaloni della regione Lazio di Roma città metropolitana ma anche dell'ampia e delle associazioni dei combattenti. Un luogo simbolico quello di Porta San Paolo dove il 10 settembre del 1943 quello che rimaneva dell'esercito reggio sbandato e senza ordini dopo la fuga del re della sua corte dello stato maggiore tra cui Pietro Badoglio affrontò con coraggio e orgoglio le truppe tedesche di occupazione supportato dai partigiani e da numerosi cittadini accorsi con armi rudimentali. Vano fu il sacrificio dei granatieri di Sardegna, dei carabinieri e dei lancieri di Montebello costretti alla resa dalla schiacciante superiorità dell'invasore. Tra gli eroi di quella battaglia oltre a Sandro Pertini e Bruno Buozzi, quest'ultimo fucilato in seguito poi alla storta, il partigiano e poeta Mario Di Maio. Stavo al lavoro a Via Leventino da un amico mio che giustava la radio di Fisermonte. Entrano i tedeschi, cominciano a sparare, hai lampadine e tutto, poi ci prendono a me il padre e lui, ci ritornano dentro a un bar, si rubano la roba e scappano. Poi venimo qua, sentimo la battaglia, corriamo qui, c'era un'autobrinda che andava poco, quando l'italiano non tornava, arrivò al piccato, l'abbiamo tirato fuori tutte e tre, l'abbiamo salvato, poi abbiamo preso pure i moschetti e cose.